Video Games Party alla pelota di Milano Call of Duty Modern Warfare 2 Dico finalmente perché l'afflusso a questo torneo è stato davvero al di fuori di ogni più rosea aspettativa Fino addirittura a mettere in seria difficoltà l'organizzazione Abbiamo cercato di fare il nostro meglio, i player erano tantissimi Ed è anche grazie alla pazienza e alla professionalità di molti di loro che siamo riusciti ad arrivare alla finale Allora il clan terzo è arrivato, adesso spila qui a fianco a noi Ragazzi voi siete un clan? Sì, formato abbastanza male Come vi chiamate singolarmente? Io sono Cisnau Neiu Flashot Ricotti Roberto Allora com'è stato questo torneo? È andato abbastanza bene, liscio fino alla semifinale, abbiamo perso la semifinale Però il terzo posto ce lo siamo presi abbastanza bene Avete perso contro i primi arrivati? Non me lo ricordo sinceramente Vabbè di solito succede così, che i terzi vengono eliminati dai primi Allora per voi che siete arrivati i terzi abbiamo quattro videogiochi per Xbox 360 Il titolo Street Fighter che vi consegno Ecco qua Ragazzi grazie per aver pazientato, per aver giocato a uno dei più bei giochi che esistono sul mercato Buon rientro a casa e al prossimo videogames party Ciao! Allora abbiamo adesso il clan secondo arrivato Venite pure ragazzi Allora voi siete? Il KGC E i vostri nick? Quali sono? Lex255 Bobo95 Jujo Rosa Tonic Stambo Ok, allora siete un clan, avete già giocato insieme o è la prima volta che giocate insieme? È la prima volta con lui, per il resto siamo un gruppo che giochiamo online su Xbox Avete anche un sito? No, ancora no Ok, allora noi abbiamo premiato il vostro talento per essere arrivati i secondi al nostro torneo Con ben quattro giochi, Super Street Fighter 4 per Xbox 360 Ragazzi grazie per la vostra pazienza, la vostra professionalità e buon rientro a casa Grazie a tutti Ed è arrivato il momento dei primi classificati, eccoli qua Voi siete? Anarchy Killer E singolarmente vi chiamate? Il Assassin? Dozer95 Jujo Anarchy King 47 Allora, com'è questo clan degli anarchi? Avete un sito? Volete salutare qualcuno? Noi giochiamo su PS3, oggi era la prima volta che giochiamo su Xbox E avete dominato lo stesso? È stato un po' dura all'inizio perché sono diversi i joystick, anche la sensibilità È stata un po' dura però alla fine ci siamo abituati, siamo riusciti a ambientarci velocemente Siete andati benissimo, siete arrivati primi davanti a 160 player ragazzi Sono davvero tantissimi e noi vi premiamo così con 4 iPod Shuffle Anzi, con 4 videogiochi per Xbox 360 e con 4 iPod Shuffle Beh, per un torneo gratuito direi che va assolutamente bene Buon rientro a casa a tutti E ancora complimenti al clan Anarchy C'è l'applauso, l'applauso Enrico L'applauso, sono i vostri amici Sono i vostri amici Sono nel nostro clan tutti quanti? Ah, tutto il clan è completo, perfetto Ragazzi, buon rientro E ora sono qui con The Caper e Lisa I due admin che oggi, poverini, si sono visti praticamente sommergere da più di 160 persone Pensate che 160 persone le fanno due o tre tornei normalmente in Video Games Party Invece che se era un torneo solo Allora, cosa è successo? È successo che arrivamo con 16 postazioni invece di 8 come al solito E non bastavano neanche 16 A noi ci dispiace se c'è stato qualche disguido Ma ci sarà di far giocare più gente possibile Nella maniera più corretta possibile Quindi ci dispiace se qualcuno per qualche ritardo non ha potuto giocare Ma altrimenti non avremmo mai finito E noi cerchiamo sempre di rimanere nelle regole E speriamo che a molta gente piazza così Va bene, alla fine il buonsenso dice Lisa, tu unica donna in mezzo a tutti questi 160 maschi Ti sei fatta valere? Ovvio, non c'è stato nessun problema E ho fatto rigare tutti i guanti E mi sembra che si siano divertiti C'è per fortuna che eravamo in due Altrimenti veramente non ci sarebbe stato verso di finirlo Va bene, noi abbiamo già organizzato per i prossimi Video Games Party Nel qual caso decidessimo di portare ancora a COD Delle joint venture con altri clan Che possano portare ancora più critiche costruttive E possano dare una mano allo staff del Video Games Party Per portare i tornei di COD al massimo livello Così come merita questo fantastico gioco I Jimboi continuano il loro concerto Video Games Party, il divertimento continuo Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.